The new stories la tua informazione libera trovato senza vita nel suo letto in ospedale dopo un intervento di rutina alla spalla diego rulli 53 anni residente a motta di livenza treviso è stato scoperto nella sua stanza in ospedale a san vito al tagliamento pordenone poco tempo dopo un comune intervento ortopedico alla cuffia dei rotatori eseguito con anestesia locale tutti gli esami preoperatori risultavano regolari la procura della repubblica di pordenone ha avviato un'indagine per omicidio colposo nei confronti dell'ortopedico e dell'anestesista responsabili dell'intervento un atto necessario per garantire le procedure legali l'autopsia presieduta dal medico legale antonello cirnelli è stata programmata per mercoledì prossimo per determinare le cause del decesso gli esperti nominati dagli indagati potranno partecipare all'esame il nuovo pattinaggio od erzo piange la prematura scomparsa di diego rulli padre della nostra atleta sara che ieri ci ha lasciato improvvisamente diego era una persona solare sempre con il sorriso stampato sul viso e sempre disponibile eri il nostro super papà ken sempre in prima fila a tifare per il gruppo amethyst questa volta devi sostenerci ancora di più dall'alto ci mancherai ci stringiamo tutti con grande affetto alla mamma federica a sara e alessia grazie per la visione iscriviti al canale attiva la campanella per noi è importante resta sempre aggiornato